Ecco cosa ho comprato per 50 euro al mercato. Siamo nel Lazio e per l'esattezza a Sora. Qui trovate davvero di tutto, dalla frutta, verdura, salumi, formaggi, eccetera. Amo venire nei mercati perché si comprano cose freschissime e spesso a poco prezzo. Guardate quanto sono particolari questi fagioli azuchi, che devo assolutamente provare. E naturalmente la ciambella sorana. Ora però vediamo cosa ho riportato a casa. Funghi, noci, pesche, un po' di verdure, acciughe, primo sale, mozzarella, fagioli, semi di girasole, salsicce e così via. Cosa ne dite? Ho speso poco o tanto?